ciao a tutti amici youtube per le migliori applicazioni di android oggi andiamo a vedere un'applicazione molto utile per il nostro dispositivo android è phone doctor plus andiamo a cliccare su phone doctor plus e vediamo che all'inizio la prima cosa che ci dà tutti i sensori e dispositivi del nostro telefono dalla rete wireless a bluetooth al touch screen microfono eccetera 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 c'è la possibilità di fare un controllo su tutti i nostri i nostri sensori nel nostro telefono ecco proviamo per esempio auricolari microfono a proposito qui sotto vedete qui sotto vi lascio il link in descrizione per il download phone doctor continuiamo adesso con il nostro test inserisce auricolari poni auricolari vicino microfono alza il volume al massimo nota il rumore può incidere sul risultato del test ma questo andiamo indietro perché non ve lo posso far sentire facciamo un test ad esempio su l'accelerometro e vediamo che ci fa fare una prova di mandare la pallina dentro questo ecco fatto e ci dà l'ok vedete e se vogliamo fare un altro test ad esempio il giroscopio vediamo che ci crede ci chiede che creare il nostro telefono esattamente non lo vedete ma insomma l'ho fatto è tutto ok il giroscopio funziona benissimo adesso andiamo a provare altre due cosette andiamo a cliccare su touch screen prevedete premio o scori sullo schermo e lui capirà se funziona perfettamente il touch screen vedete ci fa ci fa fare delle prove per vedere se il touch screen ne risponde vediamo che alla fine fa ci dà il risultato e ci dà la spunta come se è funzionasse fosse tutto ok quindi andiamo avanti clicchiamo su questa freccia che ci porta avanti e possiamo fare un altro controllo guardiamo un po sotto abbiamo tutti i controlli del nostro telefono qualsiasi funzione allora l'esterno e l'interno non ce lo fa cliccare i sensori e nemmeno però ci fa fare delle prove ad esempio la memoria capacità di memoria velocità di accesso e scansione veloce clicchiamo sul play qua sotto e vediamo che ci dà controllo della memoria della scansione veloce ci dà i risultati velocità di accesso a 1207 megabyte al secondo quindi andiamo avanti e ci dà è la spunta ok come se tutto fosse ok quindi clicchiamo su avanti e andiamo a fare un'altra prova test del display clicca sui puntini bianchi e clicca sui puntini neri proviamolo adesso devo cliccare sui puntini bianchi vedete 2 e 3 ok adesso clicchiamo sui puntini neri 1 2 e 3 ok e anche questo test è andato ha dato esito positivo quindi vediamo che fondotto ci fa fare il test per ogni tipo di sensore di dispositivo che abbiamo integrato del nostro telefono quindi andiamo avanti e vediamo altre caratteristiche qua diamo una valutazione con dvd su web per essere piattaforma twitter facebook di loro amico sito web contattaci tornando indietro abbiamo i nostri controlli la parte iniziale che questa ve l'ho detto ci dà un attimo un accenno di tutte di tutto il nostro telefono della memoria cpu insomma quello che sta consumando per questo video sulle migliori applicazioni android è tutto iscrivetevi al mio canale lasciate un like se vi è piaciuto ciao a tutti